Siamo quasi già operativi, adesso sistemiamo bene la tenda a posto, ma se riesco ad unirarla meglio. Stiamo bene la tenda a posto, perché abbiamo inserito il nostro cibo, poi si parte verso una nuova direzione. Oggi sveglia alle 3, ora sono le 5, ci siamo accampati questa notte con la tenda, un'oretta per rimettere tutto a posto. Siamo partiti verso le 4, abbiamo fatto più o meno un'oretta, un'oretta e mezza di cammino con il frontellino in notturna e poi ci siamo visti un po' brutta, siamo passati per una cascina dove c'erano dei cani pastore liberi di notte e ci hanno quasi aggredito, diciamo. Quindi fortunatamente abbiamo avuto un po' di sangue freddo e siamo riusciti in qualche modo a passare. Grazie a tutti. Non si può aggiungere nulla, nelle volte il silenzio è la miglior cosa. cosa è brutta è che in questi paesaggi quando hai la passione. della fotografia ti tocca portare un peso sorbitante sulla spalla, ecco qua, ecco cos'ha, tocca portare a noi camminatori con la passione della fotografia un peso, anzi chiamiamolo così, il grande fardello. tutto questo non vale forse il prezzo di svegliarsi? alle tre del mattino, dormire poche ore, la stanchezza accumulata di giorni, ogni volta che vogliamo vedere un nuovo giorno, nonostante la fatica, bello, bellissimo ragazzi, bellissimo, fantastica, fantastica la Toscana. Grazie a tutti. 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 andate a timbrare oggi siamo fatti una bella doccia rigenerante infatti sarà bello pulito fresco e pulito abbiamo fatto timbrare e oltre il timbro ora andiamo a fare una spesuccia a non alimentare qui vicino cosicché domani stasera mangiamo qualcosa sinceramente a casa e domani ne abbiamo tutto ciò che ci serve per colazione guardate che bella abbronzatura del pellegrino che mi son fatto figa vero top mi sono accorto di aver fatto sempre pochi video su le tappe di arrivo dormivi ecco la motivazione è perché si è molto stanchi dopo aver fatto molti chilometri a piedi e poi la somma dei chilometri insomma è logorante per questo motivo oggi farò un video di nel punto di arrivo di dove siamo arrivati oggi per aver guardato fantastico un saluto dai tramonti migliori un saluto dai